Allora, buongiorno a tutti, sono Daniele Vistalli di Factory SRL. Quello che vi farò vedere in questa brevissima presentazione è una carrellata sul mondo di Lotus Connections, per come lo intendiamo noi, per come lo integriamo noi, per come lo proponiamo, più che come un prodotto, come una piattaforma per il social network all'interno dell'azienda. Molto di quello che dovete sapere, non tutto, ci vorrebbero giorni per affrontare tutte le tematiche. Noi adotteremo una trattazione principalmente tecnica, con alcuni spunti rispetto all'uso in azienda, quello che andiamo a risolvere implementando una piattaforma come Connections. Vedremo anche un paio di casi per farvi capire che non è che il prodotto venga utilizzato out of the box e non ci si sposta da lì. Possiamo fare molto a livello di customizzazione e integrazione. Di solito il problema è la fantasia nel portare dentro la rete e la propria intranet altre informazioni presenti all'interno dell'azienda. Agenda velocissima, Connections, piattaforma social. Cosa c'è nella scatola, quali sono le componenti, cosa ce ne facciamo, come le possiamo integrare, come dobbiamo interpretarle, per poi passare al dettaglio dei singoli moduli e delle informazioni che possiamo gestire all'interno della nostra intranet. Per poi arrivare al think outside the box. Non limitiamoci a quello che c'è nella brochure, non limitiamoci a quello che abbiamo al termine della procedura di installazione avanti, 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 perché se no ci stiamo perdendo l'altra metà che è quella più interessante, quella dell'integrazione. Oggi si parla di social intranet, di condivisione della conoscenza. Chi è nel mondo Lotus lo faceva probabilmente dieci anni fa con Notes, quindici, io ho iniziato dopo, va bene, scusate. Quindici anni fa, oggi l'informazione è molta di più, organizzarla è ancora più importante. Quindi vedremo anche come è possibile portare in Connections, anche in modo semplice, informazioni che sono già nel nostro sistema informativo. aziende medio-grandi hanno un HR con le sue applicazioni, ma finché teniamo dei silos applicativi che non si parlano, difficilmente avremo dei risultati. Quindi Connections nasce per l'integrazione di queste funzionalità. Una brevissima nota per chi è già utente delle piattaforme Lotus e Domino e poi ci presentiamo, ma alla fine è questo. Piattaforma social. Questo schemino, perché è un semplicissimo diagramma, ci dice quali sono le componenti all'interno di Connections. Se volessimo vederla in chiave di piattaforma, noi possiamo considerare Connections come due prodotti in uno. La parte in basso, quella che può essere considerata di core, è un motore di servizi SOA, REST, come potrebbero essere quelli che ci dà Google, quelli che ci dà Salesforce, quelli che ci dà qualunque piattaforma disponibile su internet e che noi possiamo utilizzare. Quindi noi abbiamo funzionalità, ah c'ho anche il laser, quindi non ho paura di usarlo. Ok, funzionalità di servizi social che vanno da quelli trasversali come la search, le news, la home page che è una dashboard, l'accesso da mobile che sono trasversali su tutti i moduli. Quali sono i moduli? Sono dei servizi verticali che vanno dalla directory, il blogging, i forum, i wiki, nulla che sia stato inventato da IBM, ma è l'integrazione e il controllo d'accesso che fa la differenza, perché alla fine arriviamo a Communities, che è l'hub in cui questi moduli possono essere integrati, estesi, per raccogliere e indicizzare ed erogare l'informazione che nasce in modo sociale e collaborativo all'interno dell'azienda. Noi adesso vedremo un po' quali sono le funzioni di base, possiamo vedere delle demo, anzi abbiamo delle demo live, le vediamo sulla nostra infrastruttura Connections. Qualcuno mi tenga il tempo perché sennò io posso parlare per un'ora. E se avete domande, se avete dubbi, io la vorrei fare anche interattiva questa discussione, quindi, ah ma la piattaforma X fa questo, sì lo facciamo anche noi, non è un problema. Alla fine abbiamo dei feed che si muovono avanti e indietro, abbiamo informazioni che si muovono avanti e indietro. Se guardiamo quella che chiamo the bigger picture, quello che vi ho descritto è questo, è il core, ma poi IBM ha creato dei client mobile per avere l'accesso all'informazione sia su piattaforma iOS che Android. Quindi ho delle applicazioni native che porto con me e lo spiegava poco fa in un'altra presentazione un collega di IBM. Il nuovo client mobile mi permette di fare l'editing offline dei contenuti e quando mi ricollego di ricaricarli. Piuttosto che se ho un'infrastruttura domino e notes in place, con i client notes, ho tutto un set di plug-in che mi portano all'interno del client, l'integrazione con la ricerca, con le activities, con i files stessi. Se ho Symfony ho anche l'editing con il round trip completo, apro da connections, modifico in Symfony, risalvo in connections. Se ho Portal, SharePoint, Windows, anche a livello di desktop posso integrare il caricamento di file direttamente al mio desktop, con Office, con Outlook. Quindi essendo una piattaforma di servizi, prima che ho una user interface, ho totale apertura ed è qui che c'è la vera differenza. Nel senso che è facile integrare e sviluppare componenti, widget, estensioni da inserire in connections. Per cui non è una scatola che appoggio su un server ed è finita lì. È un punto a cui posso agganciare un'intera intranet, se non un altro. Io posso fare una intranet a partire da connections. Poi se ho integrazione applicativa, allora magari portale. Ma io posso partire anche solo da connections. Cosa abbiamo nella scatola? La parte di profilo, directori aziendali, aziende sempre più disperse, non distribuite, proprio disperse, tante sedi, persone che magari lavorano a casa. Necessità comunque di conoscere la faccia del nostro interlocutore. Noi siamo un'azienda sparsa. Alcune persone si sono conosciute oggi, eppure lavoriamo assieme da mesi. Perché? Perché abbiamo connection, abbiamo tutti questi strumenti di collaborazione real time che ci permettono di condividere le informazioni. Per ogni cliente, per ogni progetto, noi abbiamo un wiki con tutte le sue informazioni, sappiamo chi fa le modifiche, quando arriviamo all'home page, vediamo chi ha fatto le modifiche e quando, siamo up to date. Il micro blogging è un altro modo che può essere inteso come una perdita di tempo o come un modo per sapere che qualcun altro si sta interessando in matematica. Evito di reinventare l'acqua calda. Io mi sto studiando la piattaforma mobile di IBM, lo dico agli altri, che magari invece di andare a scoprire dove è nascosto il link, quattro portali più in là, scarica già la presentazione che ho preparato. In un'azienda strutturata, posso andare a differenziare per ruolo le informazioni disponibili. Un dipendente avrà informazioni disponibili rispetto a un collaboratore esterno, rispetto magari a un dirigente. Queste sono tutte funzionalità di base da directory che può permetterci anche un certo tipo di customizzazione. Il tagging delle persone, l'aggiunta di tab. Noi stiamo sviluppando un'applicazione di skill tracking fatta in domino per cui andiamo a tracciare chi ha quale conoscenza, su quali progetti ha lavorato, ma non ha senso che ne facciamo un'applicazione terza. La inseriamo come widget all'interno del profilo personale e la utilizziamo nelle community per capire quali skill sono disponibili all'interno di quella community. Quindi anche tutto connections, pensatelo, come quello che potrebbe essere una iGoogle, una dashboard in cui l'HR, l'IT, le funzioni aziendali possono andare ad agganciare funzionalità rilevanti. Sempre all'interno di connections, io come fossi in LinkedIn, posso mettermi in contatto con dei colleghi. Aziende con centinaia di persone possono far emergere le reti di conoscenza. A cosa servono le reti di conoscenza? Non per dire io sono amico suo, ma per istruire connections a estrarre dalle informazioni disponibili quelle che le persone con cui collaboro stanno creando o utilizzando. E quindi tramite una logica di prossimità darmi informazioni che possono essere rilevanti per me. Nuovamente, molta dell'informazione aziendale passa davanti alla macchinetta del caffè perché è il momento in cui ci si ferma e si condividono idee. Connections è una seconda macchinetta del caffè, solo che origlia alle nostre informazioni e le distribuisce alle persone che possono essere interessate. Questa è la funzionalità di Discovery, introdotta nella 3, che nella versione 4 sarà ancora superiore, ma non andiamo troppo avanti, stiamo surreale. Directory che abbiamo detto viene caricata dalla nostra directory aziendale, che sia un active directory, che sia domino, che sia una, che siano 10, connections agli strumenti per aggregare, unificare e rendere disponibile l'informazione sulle persone. È configurabile, possiamo filtrare informazioni, trasformarle, renderle accessibili. Spesso sapere con chi parlare è il miglior modo per risparmiare tempo. Non so quali siano le dimensioni medie delle realtà in cui lavorate, ma spesso una persona che sta in un ufficio dall'altra parte della palazzina e che magari ho incontrato due volte al caffè non so cosa fa, ma ha quel pezzo di informazione che mi interessa. Ecco, connection nasce esattamente per questo. È un bar un pochino più allargato, vabbè, solo che non ha le bibite. Tra i moduli, qui non mi soffermo più di tanto perché sapete tutti cosa fa un wiki, cosa fa un forum. Files è una cosa nuova, è una sorta di dropbox, con la possibilità di commentare, di dare un rating. può essere usato in mille modi, può essere usato per distribuire dei manuali di qualità che vengono aggiornati e per tracciare chi li vede, può essere usato per condividere una presentazione che si sta preparando per un cliente ed avere dei pareri, può essere utilizzato in modi creativi tramite l'API per creare delle micro applicazioni dedicate. Come dicevo, connection stesso può essere visto come un'applicazione verticale costruita su un motore dei servizi REST che abbiamo sotto. Quindi, io lo racconto sempre come due prodotti in uno, un motore di servizi e un'applicazione che li usa. La prima applicazione, ma noi possiamo crearne altre. Bookmarks, molti conoscono dell'issues. Potrebbe essere discutibile a cosa mi serve un sistema di bookmarking condiviso in azienda. Per chi lavora con le informazioni e deve condividerle, buona parte delle informazioni arrivano da intranet, oppure da applicazioni interne alla intranet o extranet. Perché condividerle? Nuovamente perché poi connection sei in grado di ricordarle a me o riproporle ad altri. Vi faccio un esempio. Noi facciamo ricerca su un sacco di prodotti. Esce qualcosa di nuovo, oppure quell'articolo che ti risolveva un problema introvabile. Come lo gestisco? Me lo segno da qualche parte nel browser così alla prima reinstallazione me lo perdo? Lo condivido in connections, lo taggo, faccio emergere una cloud di tag rilevanti, insegno ai colleghi come classificare le informazioni e quella volta che mi serve è in un database che posso andare a gestire. Ok? E poi tramite altri servizi posso riprendere quei link e ripresentarli nella intranet sotto un'altra forma. Ci sono dei bookmarklet e dei widget all'interno di connection che con uno snippet di due righe mi permettono di prendere tutti i contenuti di quel tag e metterli in un'altra parte della intranet con un copia e incolla. Quello che qualunque piattaforma WordPress ci fa e ci dicono IBM non lo fa. Se non lo fa c'è tutto, basta integrarlo. Solo che in più abbiamo il single signal e il controllo d'accesso e quel link un po' particolare lo vede solo chi lo deve vedere. È qui che abbiamo un po' di differenza. Activities è il mio preferito. Pensiamola così per partire. La to-do list, i tasks nella posta. Mi insegno delle cose da fare, però poi a un certo punto sto aspettando che qualcuno faccia qualcos'altro. Activities è la risposta a questa problematica, cioè un oggetto logico, una task list, una serie di appunti a cui posso invitare a partecipare altre persone per creare una gerarchia di attività, di appunti, di note, di task, di link, di documenti, di email che hanno come scopo l'ottenimento di un risultato. Quando si parla di attività, cosa è un'attività? È un'azione che ha uno scopo. Con Activities creiamo la definizione dello scopo, organizzare l'evento del domino point e ci segniamo quali sono gli step per arrivarci. Però invitiamo all'Activity tutte le persone che devono collaborare, io, Fabio, Andrea, i colleghi che hanno lavorato sul sito nuovo. Agganciamo tutti, assegniamo i task e vediamo l'avanzamento. Non ho più la mia task list che non mi spiega perché il mio collega non ha ancora fatto quella cosa. Lo annota e a mo' di blog verticale sull'attività, io so cosa sta succedendo. Posso inviare notifiche, quindi segnalare un avanzamento, posso integrarlo nuovamente con l'API. Chi mi vieta di avere una situazione di errore segnalata, una situazione particolare in produzione che diventa un'Activity che dice a qualcuno che dovrà fare qualcosa, lo posso integrare. Un motore di servizi lo integro anche in questo modo. Communities è invece l'hub. Tutti questi moduli a sé vanno spaiati. Abbiamo 7-8 mila dipendenti, non è che viene facile controllare quello che succede con tutta questa massa. Possiamo far emergere delle community, dei gruppi di lavoro. Quindi una community è una partizione, una stanza in cui delle persone entrano, in cui collaborano assieme, una stanza che può essere con le porte aperte, col bodyguard all'ingresso o assolutamente riservate, c'entra solo chi ha la chiave. Con questi tre livelli di accesso noi gestiamo la riservatezza o l'apertura. Possiamo fare iniziative di engagement degli employee, oppure possiamo fare la comunità del management dove vengono condivisi i risultati di business. Tutto con un unico oggetto. Cosa sta in una community? Molto semplice. Una community è un gruppo di membri, un gruppo di persone con dei ruoli e una serie di moduli di connections agganciati. Una serie di moduli di connections o di applicazioni che abbiamo integrato, ma questo ci arriviamo dopo. Ho accennato prima il social discovery. Io all'interno del mondo connections ho quello che ho su Twitter. Follow. Contatta. Mettiti in contatto. E ricerca. Tramite il follow e il mettiti in contatto, connections crea la mia rete sociale. Non me la fa vedere ma sotto lui la conosce. In base al commento che io metto su un posto, su un documento di un collega, ho un più uno sulla mia rete sociale. Quindi quando entrerò nella home page, che vediamo dopo, troverò le informazioni che sono vicine al mio ambito operativo. Le informazioni che mi possono essere più utili. Ed è tutto trasparente. Nelle brochure queste cose non vengono raccontate, però sono quelle a cui ormai le persone sono abituate. Me lo dà Facebook, me lo dà Google, me lo dà LinkedIn e me lo dà anche connections. Perché i modelli di lavoro sono quelli. Quello che c'è in più è la dimensione enterprise. Controllo di accesso, audit, sicurezza, integrazione e moderazione. Perché magari i determinati contenuti non devono andare in giro. La search invece è la possibilità di indicizzare qualunque contenuto e di ritrovarlo in modo agile. Quali sono le dimensioni? Il contenuto, l'autore, il tag e il quando. Queste informazioni mi permettono di arrivare chirurgicamente all'informazione che mi serve e di estrapolarla per il riutilizzo. Adesso facciamo un giro in pratica. Home page è l'ultima slide prima della mia prima demo. È il punto di aggregazione dove ho anche il micro blogging, le notizie che il servizio di discovery fa emergere per me. e la possibilità di creare una dashboard con dei widget. Vediamo molto velocemente il nostro connections. Questo è un connections leggermente customizzato solo a livello di branding, di leader. Questa è la home page. Io parto dagli aggiornamenti, i miei aggiornamenti di stato. Il feed notizie che è tutto ciò che quando la sessione scade devo rientrare. Il feed notizie è la storia delle attività che ho fatto, visto che Andrea ha lavorato sul nostro web sphere portalotto e ha fatto delle modifiche, ho visto che abbiamo fatto delle integrazioni su connections. Io so tutto quello che stanno facendo i colleghi della mia rete. Le notifiche sono invece informazioni rispetto a attività che vengono fatte su altri servizi. Il discovery. Questo invece è ciò che mi suggerisce connections. Daniele Vistalli sta preparando la presentazione, notare l'ora di questa mattina. I segnalibri, come ho detto, ho condiviso un'informazione su come accedere alla rete IBM per alcune informazioni della notes network, piuttosto che Andrea ha condiviso alcuni tips riguardo alle xpages. Communities e così via. Sono tutti suggerimenti che io la mattina quando apro connections ho un allineamento immediato, perché se io aspettassi che i miei colleghi la sera mi dicono che cosa è successo, tanti saluti. Lo dice connections perché è il nostro strumento di lavoro e organizzazione. In più, una feature di reading list, non sempre ho tempo di seguire una cosa che mi è stata notificata o che mi interessa. Allora io posso anche decidere di salvare. Salvo questa nota e la ritrovo nella mia reading list per un uso successivo. È un reminder che mi assegno all'interno di connections. Ok, abbiamo... 5 minuti. Eh? No, è mezz'ora, eh? Cari loro, abbiamo 10 minuti. Allora, riprendiamo la presentazione. Allora, molto rapidamente, connections su mobile, applicazione HTML5 per mobile, tutti i moduli, le consulto da web con qualunque device HTML5, oppure Android e iOS, client nativo con funzionalità di offline, funzionalità di notifica e accesso più ricco anche a implementazioni multiple di connections. Si trovano sugli store, liberamente scaricabili, date l'indirizzo del vostro connections, lo puntate e siete a posto. Pensare fuori dalla scatola, come dicevo, abbiamo vari punti di estensione, al di là del branding, la possibilità di agganciare servizi di terzi, la possibilità di agganciare widget, la possibilità di estendere i profile type con campi e informazioni custom. UI customization è la prima, voglio un branding specifico, adesso vi faccio vedere un esempio pratico e bello ricco di come abbiamo integrato connections al portale, motore di ricerca, i widget che posso sviluppare nativamente con le X pages di domino o con la widget factory, oppure seguendo la specifica con qualunque client di sviluppo, o qualunque linguaggio per lo sviluppo web, estensione dei profili per avere più dati. Vediamolo in pratica, ho avuto autorizzazione da un cliente a farvi vedere questo, una nuova internet che è stata rilasciata, sì sì, ce li ho qua. Fondamentalmente questo è un portale, abbiamo tutta una componente di navigazione, di informazioni, ma quello che voglio farvi vedere è che abbiamo integrato nel tema di portale la mia network personale, quindi ho i miei contatti come se fossi su Facebook a portata di mano, oppure il mio profilo, questo è connections, lo stesso connections che avete visto in questa forma è stato trasformato per avere la stesso look and feel del portale o di qualunque altra applicazione per navigare all'interno della rete aziendale, per accedere alle informazioni che un altro collega ha caricato, per vederne l'esperienza, le pubblicazioni recenti, i collegamenti condivisi, tutto pensato anche per essere fruito in questa forma su mobile, perché abbiamo usato librerie e adattamenti anche compatibili con iPhone, per cui il branding è quello che la comunicazione e chi si è occupato della comunicazione ha definito, connections è adattato dinamicamente a questo uso. La ricerca integrata, portale, connections, se io vado a cercare Marco, ho una ricerca istantanea su tutta la mia rubrica aziendale, quanti utenti siamo? Qua dentro? 1500 attivi su una popolazione di 6-7 mila, perfetto. Io ho fatto una ricerca su 6-7 mila profili caricati per arrivare alla scheda di una persona. Il tempo è questo e poi ho tutte le informazioni. Questo è il tipo di implementazione che si va a fare con connections. Due ultime note. Chi è cliente IBM che possiede già Portal o Lotus Domino, ha già l'entitlement, a Profiles e Files, già ne ha licenza a partire dal 4 di ottobre dell'anno scorso. Sì, a partire da 8-5-3 in poi, esattamente, sottomente. Gli facciamo il rinnovo, non c'è problema. Siamo qui apposta. Comunque sappiatelo, fatevi delle domande, prima di tutto se lo sapete, secondo quando iniziate a utilizzarlo. Esiste un percorso di upgrade per chi ha domino sotto maintenance, per cui la versione full non costa come la full, ma costa come un upgrade. C'è un upgrade, un percorso di upgrade. Infine, chi siamo? Adesso io ho parlato per mezz'ora, adesso mi butteranno anche fuori. Siamo un'azienda nata nel 2009, con un po' di esperienza nel mondo IBM e Lotus. Ci occupiamo principalmente di tecnologia, ma conosciamo le tematiche dell'organizzazione, della comunicazione. Non vi faremo mai consulenza comunicazione, ma parleremo con chi si occupa di queste tematiche nella vostra azienda, capendolo. Anzi, spesso, il nostro lavoro è proprio quello di fare mediatori tra tecnologi, che non ne vogliono sapere nulla, e comunicatori, o risorse umane, o varie funzioni. Con il risultato poi di produrre anche, in modo concreto, il risultato. Cosa facciamo? Appunto, design di infrastrutture, gestione di infrastrutture, sviluppo di integrazioni. Cosa non facciamo? Ve l'ho già detto. Abbiamo fatto un giochino ieri per calcolare da quanto maciniamo di questi sistemi. Noi siamo una decina di persone, in questo momento, e abbiamo fatto un conto che, cumulativamente, su Domino e Noz, ci lavoriamo da 66 anni. Sul portale da 31, su Connections, che è un prodotto fresco, perché è uscito nel 2007, siamo arrivati a 13 anni, perché io ho iniziato a lavorare sulla 1, ho fatto tutto il beta program della 2, ho saltato la 3, stiamo seguendo il beta program della 4, abbiamo già implementato il portale 8 da noi, perché stiamo facendo il testing, e poi abbiamo altre conoscenze, sul modativo di access manager, security, same time, ho messo anche un work light, che è uscito 3 giorni fa, abbiamo 3 giorni di esperienza, perché stiamo studiando la tematica dell'integrazione applicativa. Direi che questo è quanto, è ora del caffè. grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie.